Ciao a tutti, in questo video andremo a vedere delle simulazioni sugli amplificatori operazionali in particolare il primo sarà un amplificatore che usa l'ingresso non invertente e il secondo che utilizza l'ingresso invertente dell'amplificatore operazionale stesso analizziamo questo primo circuito, quindi sono stati inseriti due generatori di tensione, uno che creare il più 15 e uno meno 15 con due rimandi che sono riportati su l'alimentazione meno e l'alimentazione più dell'operazionale sono state inserite due resistenze e il segnale sinusoidale preso dal generatore viene applicato direttamente all'ingresso non invertente, quindi il più dell'amplificatore andiamo a vedere i parametri del generatore quindi ampiezza 5 volt, frequenza ho inserito 50 Hz questi invece i parametri di simulazione ho inserito 0,1 secondo come tempo massimo di simulazione facciamo partire il simulatore con la sonda preleviamo il segnale di ingresso questo qui è il nostro segnale e questo è il segnale di uscita possiamo vedere che il segnale di uscita, questo in blu è amplificato due volte rispetto al segnale di ingresso questo perché diciamo R1 diviso R2 più 1 è la formula che determina il guadagno quindi in questo caso sono uguali quindi 10 diviso 10 fa 1 più 1 fa 2 quindi è un'amplificazione di due volte infatti se io cambio questa resistenza la faccio diventare 20k andremo a vedere che l'amplificazione cambierà ovviamente se io lo faccio amplificare oltre 15 volt adesso è giusto giusto a 15 facendo 30k succede che il segnale viene tosato a 15 volt perché la tensione di alimentazione è 15 volt quindi lui oltre il 15 volt quindi meno 15 e più 15 non potrà più amplificare vediamo ora l'amplificatore con il segnale applicato all'ingresso invertente io l'ho già preparato eccolo qui quindi il circuito è molto simile cambia solo che il segnale del generatore arriva al mio ingresso invertente qui la formula per calcolare il guadagno è R1 diviso R2 quindi 10 diviso 5 farà 2 quindi il guadagno in questo caso è 2 facciamo partire il simulatore adesso ce li abbiamo tutti e due vicini li mettiamo li mettiamo vicini così qui abbiamo anche un riferimento ok quindi anche qui prendiamo l'ingresso e l'uscita vediamo subito a colpo d'occhio che il segnale è sfasato di 90 gradi questo appunto perché il segnale è applicato sull'ingresso invertente qui vale lo stesso discorso che se io qui lo faccio amplificare di più avrò la stessa dosatura la differenza è solo che questo segnale in uscita è sfasato di 90 gradi rispetto all'ingresso questo è tutto per gli amplificatori operazionali ci sentiamo al prossimo video ciao